Siamo gli ecumenici, parliamo di tante cose, in poesia oppure in prose, siamo Altifresh, Todi, siamo tutti quanti ecumenici per voi. E siamo qua, siamo gli ecumenici, io sono Altifresh, lui è Todi e oggi andremo ad ascoltare il nuovo album di Tare The Creator, Call Me If You Get Lost, che è uscito due settimane fa e oggi andremo a fare una recensione ecumenica dell'album, a nostro modo, a nostro modo. Prima di iniziare io direi di fare, diciamo, un'introduzione a quest'album, così per non iniziare proprio a freddo. Allora, io reputerei quest'album in una triologia, io direi una triologia, poiché Tyler, prima di quest'album, ha fatto uscire Igor e prima ancora ha fatto uscire l'album Flower Boy. E tra questi tre album c'è stata una transizione, io chiamerei una transizione. Transumanza. Una trans, no, transmutanza, una transmutanza, o transumanza, vabbè, chi cazzo se ne frega, di Tare The Creator, che è passato da omosessuale a etero in tre album. Lui ha fatto quest'evoluzione, no? Sai che adesso diventano tutti omosessuali, no? Lui è diventato eterosessuale, lui è controcorrente, no? Esatto. Perché in Flower Boy fa il suo coming out e praticamente esprime il suo amore verso... Sentilenti positivi. Sentilenti contro persone del stesso sesso. Del stesso sesso e di etnia caucasica, soprattutto, devono essere bianche, mi raccomando, neri? No, perché Giardin Smith ci ha provato su Twitter, ma Tare The Creator, due dp che gli ha dato, quindi bianchi, devono essere bianchi. E lui è passato da questo coming out a Igor, in cui Igor parla di una rottura che ha avuto con questo ragazzo, che, diciamo, ha fatto passare un brutto periodo a Tyler, che però ci ha regalato quest'album magnifico, che non si può reputare neanche un album rap, anche se agli awards ha vinto il miglior album rap dell'anno. Infatti, possiamo vedere 21 Savage straincazzato quando dicono Tyler The Creator e 21 Savage così. What the fuck? E comunque anche Tyler stesso disse in un'intervista che il suo album non è rap, ma si può definire pop, alternative pop o addirittura un nuovo genere, perché non c'entra proprio niente con il rap. A parte A Boyz A Gun, dove rappa, e a parte Puppet, dove c'è Kanye West che fa la stoffa rap, il resto dell'album è cantato, è principalmente cantato. Però, prima di questi... Ah, sì, e poi dopo passiamo a Call Me If I Get Lost. E qua c'è la vera transmutanza, in cui Tyler improvvisamente, dopo un viaggio in Europa, diventa eterosessuale. A caso, così diventa eterosessuale. E in quest'album, principalmente, il riassunto di quest'album è che lui si innamora di questa ragazza, e questa ragazza, presumibilmente, è la ragazza di un suo amico. E quindi lui è combattuto in mezzo ai suoi sentimenti per questa ragazza, e il non infamare il suo amico, no? E in quest'album racconta questa storia qua. Però, prima ancora di questi tre album, dobbiamo ricordare Bastard, Wolf e Cherry Bomb, che questi tre album, praticamente, hanno fatto la storia, perché prende misoginia, omofobia, qualsiasi cosa. Praticamente, in quegli album, Tyler ha chiuso tutto l'unpolitically correct in quegli album. Infatti è stato bannato in Australia e in molti paesi europei, e non ha potuto fare dei tour. E vogliamo ricordare che la prima cancel culture è stata su Tyler, perché Twitter bannò Tyler, ripetutamente cancellò dei tweet di Tyler, poiché, vabbè, lui era super mega provocatorio. E diciamo che ha fatto anche questa transmutanza, oltre a livello orientamento sessuale, l'ha fatto anche comunque nei modi. Adesso è molto più garbato, rispetto a prima, non è garbato, ma rispetto a prima è molto più garbato, perché prima era veramente esagerato, parlava di stupri, e faggots diceva, robe del genere. E quindi, diciamo che adesso si è un pochino più... Si è calmato. Si è calmato. E, boh, detto questo, questa introduzione, possiamo iniziare con l'album, con la prima traccia, che si chiama Sir Baudelaire, e io interpreto questa traccia, questo Baudelaire, io direi che è il nome inventato di Tyler, perché come in Igor, Tyler si chiama Igor, che fa riferimento a un mostro, in questo caso Baudelaire, è un cognome francese, diciamo, potrebbe essere un cognome francese, che fa riferimento al suo viaggio che ha fatto in Francia. E poi tra l'altro, se guardi bene anche la cover dell'album, si è scritto proprio qua nel nome, Tyler Baudelaire. Tyler Baudelaire, sì, è un alter ego di Tyler, praticamente, come in Igor, però in questo caso è... fa riferimento a un'altra cosa. E tra l'altro è molto interessante che ci ha fatto un caso ora, e praticamente qua c'è scritto License of Travel, licenza di viaggio. Licenza di viaggio. E infatti nell'album si può notare appunto come parla di tutti questi viaggi che ha fatto da Francia, da Svizzera, in Italia anche addirittura. Allora, i luoghi che ha visitato, che lui ha detto di aver visitato, poi noi non sappiamo se ha visitato tutti i posti, sono l'Isola di Capri, Ginevra, la Francia, non si sa di preciso, Cannes, perché si parla anche di Cannes, e anche l'Italia in generale, perché ha fatto delle session in Italia, e quindi ha fatto questo viaggio in Europa. Prima però di iniziare l'album, possiamo vedere la intro dell'album, questa intro, che diciamo che riassume l'album stesso. Sì. Sono pochi secondi che riassume questo amore che ha verso questa ragazza, Tyre The Creator, e possiamo vedere in questo video. che si sbaciucchia con questo ragazza, e poi c'è un cane che fa una guardia. E poi la macchina, c'è la macchina, cazzo, dove è la presa questa macchina? E poi adesso possiamo vedere Tyler, che se ne va via, è lei che va dal suo tipo cornuto, che sa, c'è due corna, una mucchia, c'è delle corna. Ma che mi sembra sta qua, adesso che la guardo sempre io? Oh, come si? Tegliana Taylor. Guardali la faccia, è lei. Un po', ovviamente non è lei. Sì, sì. Non ha quei lamenti di... E questo, diciamo, fa riferimento a questo storytelling che c'è di questo album, di questo innamoramento che ha di Tyler, che ha Tyler di questa ragazza. E detto questo, possiamo iniziare con il vero e proprio album. Dalla prima traccia, Sir Baudelaire. E iniziamo. E metteremo anche Genius, per leggere i testi, analizzarli alla veloce, diciamo. Le prime cose che ci capitano, le analizziamo. Let's go. Let's go. Ah, l'album è prodotto interamente da digitali, drama. E quindi, secondo me, cioè, non è detto, non l'ha detto, ma secondo me questo è un album collaborativo con DJ drama. Non è un album di Tyler. Io direi che è di Tyler e di DJ drama. Poiché DJ drama fa le intro, le outro, fa dei ritornelli, oltre che le produzioni. Esatto. E lo stile di quest'album ricorda lo stile dei mixtape di Lil Wayne, i vecchi mixtape che si facevano nel 2009-2008. Sì. E diciamo che l'ha riproposto nel 2021, in uno stile... Dieci anni dopo, un discendio nuovo. Dove adesso tutti fanno trap, musica, diciamo, più commerciale, lui ha riportato questo stile rap più vecchio. L'altro da notare, DJ drama, c'è il produttore per aver prodotto il freestyle più bello di tutto il mondo. L'XXL del 2016. Sì. Lui era il DJ che stava dietro in quell'XXL e ricordiamo che c'era Denzel Curry, Illusivet, 21 Savage, Liliotti è Kodak Black, che quella è arte, cioè la trap. Tutti si scondano di Kodak Black chissà perché, perché forse ha fatto vomitare, ha fatto cagare, due cose ne si incroce, però... E anche Denzel Curry che ha spaccato nessun Kodak Black. Però Kodak Black se lo dimenticono, semplicemente perché ha dissato DJ drama. È vero. Quando ha dissato il beat. Lui si è permesso di dissare DJ drama, ma come cazzo ti permetti? Come ti permetti? Sto cogliendo che Lisa si... Sono nero. Infatti, guarda che fine ha fatto, è andato in prigione, adesso non si sa che fa. Cazzo i suoi. Comunque, allora, iniziamo con la prima traccia, si bu d'lea. Vibriamo con la suoi. Mi ziu! Ok. Adesso che mi fai pensare nel verso dove... cita Osama Shu. Trasciando il fatto che non è Osama Bin Laden perché se si va appunto a guardare qua possiamo vedere che appunto è un Osama e un Osama Abdeladejem che appena... Minchia, a me io leggo Osama e chi cazzo... Quanto pare è il creatore di queste scarpe. Però se tu guardi bene Blow Like Osama Blow che comunque adesso ci ha fatto caso. Don't want this shit to blow like Osama Shu. Ha fatto doppio senso ma infatti... Esatto. Ma infatti qua c'è anche scritto che sono due cose o è la scarpe o è pure l'attentato. E infatti, è un minchia, c'aveva doppio senso. Tu non puoi mettere Osama così? Esatto. Non puoi mettere. Riprendiamo. Diciamo che la parte finale di questa canzone è la parte finale che c'è in ogni video di Italia che è uscito che riguarda quest'album e diciamo che è l'etichetta dell'album questa colonna sonora e sono tipo le colonne sonore dei telefoni, dei centralini, dei... Esatto. Per esempio la pubblicità della team che c'è la pubblicità sì, tipo le pubblicità e quelle cose. lui ha questa frase Call Me If You Get Lost e adesso dobbiamo votare la canzone. Da 1 a 10. Voti. Allora, voti, passiamo ai voti. Allora, io direi per essere una intro è molto bella perché il beat è bellissimo, cioè veramente il G-Tram ha fatto un lavorone. Lui vabbè, lui è nato easy ma perché è una intro, non siamo ancora all'interno dell'album, è l'inizio. Non puoi fare come i Migos che le prime due canzoni racchiudono tutto l'album. Però, esatto, lasciamo stare con me. Comunque, per essere una intro è tutto, io darei un 8. Un 8 bello pulito. Un 8 bello pulito, sì, forse potrebbe sembrare un voto alto però comunque per essere una intro bisogna anche contestualizzare. È durata poco la canzone, non è che è durata tanto, è durata un minuto e 28. Lui ha rappato. I cui 20 secondi sono l'intro e l'altro. Sì, vabbè, lui ha rappato. È una intro, non è una intro. Sto raccontando una storia. Una storia di come era stato tutta questa ragazza e di come vorrebbe conquistarla, e di come vorrebbe scappare così a un altro posto. Esatto, quindi 8. 8 pulito pulito. Passiamolo a questa canzone. La canzone più bella dell'anno, secondo me. È la canzone più bella dell'anno. Corso, allora, anticipiamo un po', parliamo un po' di questa canzone. Per tutto Corso, nome italiano, quindi fa riferimento all'Italia. All'Italia. Non solo l'Italia, perché Corso è una po' l'italiana. E poi, vai, dillo te, di Asaprofi. diciamo che Italia era fatto un po' il figlio di fluttana con tutti noi, perché in questa canzone ci doveva essere principalmente Esaprofi come feat. Però cosa è successo? Siccome erano da mesi che non si sentivano, si sono beccati per fare la strofa insieme, mi ho detto, ma sai che c'è? Faccio 8 strofe io con DJ Drama che fa 8 ritornelli, e quindi è sempre e comunque sempre una fantastica canzone. Doveva esserci Esaprofi. Però con Esaprofi sarebbe fantastico. Boom. È vero che non ci sono sentiti per mesi, ho detto, per mesi, e poi, poco finito l'album, esce questa foto qua che vi faremo vedere adesso. Sì. Con loro che sono molto felici, che fanno... molto... molto... e iniziamo ad ascoltare Cors. Cors. Dai. Produzione sempre di DJ Drama di DJ Drama. Ok, allora. Una cosa che ho notato... I ain't talking to this bitch in two days and I ain't gonna be this way and I'm from the threesome. A parte, vabbè, quanto è catchy questa frase, però... Cioè, a parte il tre che ormai è sempre ovunque il tre. Trilogia. Trilogia, sì. Però secondo me il threesome sta il fatto che è lui, la ragazza e il suo amico. Sì. Perché lui non vuole né dare un torto all'amico rubandogli la ragazza. Esatto. Né dare un torto alla ragazza perché pensi... E quindi fa un threesome e sono tutti felici e contenti. Se ne posso avere uno o l'altro ce ne ho tutti e due insieme. Quindi mi piace, mi piace. Il Capri, l'isola di Capri. l'isola di Capri perché lui è con uno yacht è stato... Su Twitter nella descrizione ha scritto in a yacht in Capri una roba del genere quindi lui ha fatto le varie. Tra l'altro vediamo qua come ha unito otto parole in Watchmen che sta attaccato. Che tra l'altro vedremo anche più avanti in alcuni altri titoli delle canzoni e quindi questa è la prima strofa che è Bobocat. Produzione fantastica. Cioè quando droppa il beat dopo il threesome spacca tutto. Cioè Digidrama addio. E poi c'è lui qua ci doveva essere Asaprochi probabilmente però ci ha messo Digidrama. Cosa ha le cazzo? Which one? Non cazzo nevelo. Vabbè bomba. Nulla da dire. Qua sta flessando che ha tanti soldi ha tante macchine. sì le Rose Royce che dice vorrei andare in una Rose Royce e lui dice quale? Sì praticamente sta facendo un paragone su quello che ha lui e su quello che ha il ragazzo di questa sua donna. Esatto poi a me fa scassare quando dice Slimy nigga che lui è magro poi Big Big che lui prende un buco tra i denti ma scassa sei un man cazzo esatto però sparca sparca so cool sì baby eh boh l'ultima strofa dice di essere una brutta persona cioè lui lo sa che sta facendo una cosa sbagliata ma in realtà lui l'ha già fatta perché sta parlando già pensato lui l'ha già fatto sì e non se ne pente di averlo fatto anche se alla fine lei ha scelto il suo amico e non lui lui spera che eh ma però lei si trova bene con lui la verità è quella se no non starebbe con lui esatto lei ha passato ha passato dei momenti belli con lui però vuole rimanere fedele al suo ragazzo anche se potrebbe tranquillamente lasciarlo andare con Tyler esatto e Tyler spera che appunto quando fanno cose amorevoli insieme pensano a lui perché è perfetto come dicendo è perfetto Dio sì esatto eh boh eh sì poi finisce con la l'auto di DJ Khaled DJ Khaled e tra l'altro qua scusa lì aveva usato la parola bitch ah sì è vero perché ha fatto riferimento a sta ragazza con bitch però c'è una ragazza che ti piace che vuoi essere fidanzata non la chiami bitch però qua dice it just sounded cool sì è solo no a livello di frase ma non voleva dire voti nove nove ma perché nove perché con Asaprochi doveva essere dieci se ci fosse stata Asaprochi era dieci ma palese palese che era dieci adesso vuoi un live prossimo che farà non quello che appena fatto ma un altro adesso arriva quando parte corso appare a caso dal palco Asaprochi e fa remix c'è un cavo da dietro che scende con un po' toglie la seconda strofa di di Tyler e fa partire con Asaprochi oppure allunga la canzone e fa durare sette minuti però dieci nove dieci se fossi pensato Asaprochi passiamo alla prossima Lemonhead Lemonhead questa qua è il fit con Forty to Doug che è un fit inusuale per Tyler non te lo saresti mai aspettato una cosa del genere con Tyler da credito e lui comunque è riuscito lui e DJ Dramo sono riusciti a farcelo stare bene nella canzone nessuno se lo sarebbe mai aspettato e iniziamo il 톤 è il fit è il fit e ora è il fit è il fit che è il fit è il fit non è il fit un fit questa è cazzeggio questo è tanto cazzeggio tanto per spezzare un po' l'album è da live il ritmo è da live Quando parte Forza di Sudeg Io mi immagino Al live Gente che si lancia Proprio addosso Tipo Si spingono Oppure gente che Incavola Si 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 spara Questo è da Da casino Infatti anche la soffa di Tyler Comunque Sì È tutta molto cazzara questa canzone Sì No Dico anche la soffa di Tyler Comunque Non è che Questo secondo me L'hanno scritta durante la pandemia Anche perché sono di Pandemic Pandemic Sono tra Pandemia Quindi sono per forza in quarantena Sono a Brooklyn A quanto pare Fanno riferimento anche alla Wu-Tang Wu-Tang Sì Sono Non so in Europa In questo caso Erano ancora Negli Stati Uniti Poi vabbè A parte di Foti Sudeg Infatti siccome sono negli Stati Uniti Hanno comunque fatto il Flex Sì Esatto Foti Sudeg Parla di puttane Esatto Di orologi Di orologi Di gioielli sui posti Sì Sette cose Quindi È Gens Sette Sì Anche io gli do sette Gli do sette Più che altro Boh Spezza tutto Tyler poteva dare un po' di più Però Dobbiamo tenere conto Che cazzeggio Quindi ci sta Comunque Emozione Posizione Ottimo G Non si capisce un cazzo Però vabbè Ci sta Per la canzone Se per sé ci sta Sette Un ottimo voto Sì sì Sette Sette va bene Siamo d'accordo Prossima trazione Vabbè Sì Tanto è l'altro L'altro DJ Trama che fa DJ Khaled Quindi Sì Fa sempre Più che noi Più che noi Più che l'altro Ah no Però questa qua Questa cambia Perché c'è È vero Giusto Ascoltiamo l'altro Ascoltiamo l'altro C'è Frank Ocean C'è Frank Ocean Che parla Cioè lui non lo fa cantare Lui non lo fa parlare Questo è uno dei trisani Dipende il decreto Dove Frank Ocean Non è in una canzone Però è in un altro Dove parla come al telefono Evidentemente Lo poteva far cantare No Facciamolo con lei Questo vuol dire Quando mai Perché è un cazzo Di nessuno E poi comunque Ha fatto cantare Ah Ha fatto cantare Fatisudeg Che ricordiamo Che sarà presente NXXL di quest'anno Fatisudeg Quindi vediamo Dopo quello del 2016 Ho perso la traccia di tutti Perché quello del 2016 È stato il migliore Ma qui è basso È alto tipo Made in Tokyo È bassissimo Il nano Fa scassare Fa Passiamo alla prossima traccia Che è What's your name Scritto benissimo Perfetto Proprio Così si scrive What's your name Si scrive così Mi raccomando Adesso ogni volta che voi ti scrive Qualcosa in inglese Ti chiami Già un milione e mezzo È un milione e mezzo di visual E l'audio Non il video L'audio L'audio E diciamo che il video è uscito Di questa canzone È uscito Subito dopo uscire l'album Tanti video sono usciti Delle canzone Non tutte È uscito il video di Lumberjack What's your name Corso Quella con l'illusi Juggernaut si chiama Quella canzone E poi non lo so Mi sembra quasi Però comunque sono Abbastanza Praticamente Un quarto dell'album E nel video di What's your name Fa proprio vedere Il continuo della intro Che vi abbiamo fatto vedere All'inizio Dove lui prendete E segue questa ragazza E gli fa delle domande E gli parla Infatti nella canzone Questa canzone Sarà proprio uno storytelling Sarà proprio Spiega cosa chiede alla ragazza Infatti secondo me Questa qua è la canzone Dove ha conosciuto questa ragazza Infatti What's your name Sì Esatto L'ha conosciuta E Cosa Importantissima C'è NBA Young Boy Come fit E Tidal Assign pure Tidal Assign Che fa il ritornello Tra virgolette Fa l'accompagnatore Sì Fa i cori Fa i cori E poi NBA Young Boy Raga Con Tidal Decreator NBA Young Boy Su sto beat Che adesso sentirete Che il beat Non è alla NBA Young Boy Infatti NBA Young Boy Farà Io comunque Voglio Voglio incontrare Tidal Decreator E fargli due domande Perché Asaprochi non c'è E secondo Perché in questa canzone Ma perché non c'è cani Ho altre domande Asaprochi Kanye West E perché soprattutto In questa canzone Ha dato più spazio Ha fottuto Tai Dollar Segno Dai Scostiamo Scostiamo Beat sempre in vigilia Ma sempre Della Madonna Oh You love my nurse You love my nurse You get some bread Friday edge But when we dance Just with my friends Something perfume And in the wind It's not again It's not again Stop What's your name Girlfriend Allora Analizziamo Analizziamo Tante Tante belle cose Ho detto Qua continua la storia Di come ha incontrato Questa ragazza Gli dice Ma nurse Vuol dire che Ma nutrita È magra Qua parla anche Di gasso Un po' di gasso Parla di colazione Quindi pane Visto che è magra Che gli dà il cibo lui Che si vede che su tipo Non la nutre La nutre lui Esatto Pane Uova E qua In realtà parla anche Addirittura Parla della Francia Sì Riferimento alla Francia Quindi questa canzone È molto probabilmente È stata registrata È scritta in Francia Qua addirittura Parla di rubarla A questo suo amico Di andare via insieme Per il mondo E quindi di prepararsi Il passaporto Infatti la cover Di questo Cosa cazzo vuole Windows Infatti la cover Di questo album È praticamente Un passaporto Quasi Passaporto E boh Prima strofa Dice praticamente Questa È una stagione Segue la linea Si dichiara Questo ragazzo Ecco Esatto E andiamo con il torneo E la chiama Già girlfriend L'ha già sicuro Di averla compito Lui è già là Lui è già arrivato Lui Ma già l'ha detto Tu sei mia E adesso Lui non dice un canso Ma lui no Più o meno Questa ultima cosa Non c'è senso Però Sì Diciamo che Sei un più impegnato Sì Comunque è R&B È R&B Non ha trappato Ha R&Bato Non è Per forza Sulla ragazza d'Italia Ma questa è una ragazza Sul mondo femminile in generale Questa sua strofa Che comunque Top Sì sì esatto E poi boh Si va avanti con Ritornello Solità forza Taitola Singh doveva fare Ritornello doveva fare un po' di più Voto Questo è tosto Perché io vorrei dargli nove Però Per lo stesso ragionamento di corso Gli do otto Perché Avrei preferito di più Che Taitola Singh Avrebbe cantato di più Quello è vero Gli do otto Poi solo Neanche tanto È tanto Otto Sì sì Anche io gli do otto Gli avrei voluto dare nove Per lo stesso motivo Perché Taitola Singh Doveva fare Ritornello Non una strofa Ma Ritornello Doveva farlo lui Perché Tyler Ha detto il suo L'NB Ngoi ha detto il suo E allora O lasciavano i due O se no non metti Taitola Singh Cioè Taitola Singh Se lo metti Lo hai capito Non so È tipo Kanye Cioè in Kanye In The Life of Pablo Ha sfruttato malemente Taitola Singh Per tutte le canzoni Per fargli il coro di chiesa Sì sì Cioè No ma No comunque È una bella canzone Buonissima Otto nove Comunque è là È tra otto e nove Otto e mezzo Siamo otto e mezzo È là È là Ottima canzone Ecco Passiamo alla prossima Lumberjack Ok Questa Era già uscita Prende l'album Ha anticipato l'album Esatto È il singolo Che è uscito prima Dell'album Del release Dell'album E boh Analizziamola E partiamo Lumberjack Tra l'altro Il Falignale Il Falignale Sì È diverso Tutti Che è la schiavitù Deve O O Or O O C'è O T' nove It's different, it's really different I said Una bomba Ritornello fa tutta la canzone Perché lo stacco di beat Quando dice E poi riparte il beat Si fa la canzone E qua Si qua flex Però Però Dice anche cose che magari ha fatto con questo ragazzo Si si Diciamo che il tema della ragazza Ritorna sempre E descrive anche l'amico tra l'altro se non sbaglio Dov'era Eccola qua My nigga tone look like a bitch Con l'immula Sminuisce l'amico Anzi fa così Tyler Devi guardare te stesso non l'altro Esatto La tipa non è che deve prendere te Non è che deve guardare te Esatto Non è che deve guardare Quindi Ma hai rotto il cazzo Ok Ok Questa non c'è nulla da dire Cioè nel senso Boh Le doppie le fai Yas E Jasper Non è che in fazza d'Italia Spacca dai Spacca Voto Io no vedo Voto 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 dai Stanno suonando la porta Non è che è un cazzo Guarda che non c'è più nessuno Non è che è un cazzo Come no Noi stiamo registrando Vabbè 8 Io invece li do 9 Perché Spacca veramente Cioè il ritornello Secondo me Tu che hai ridotto Sottovaluti Il ritornello No Perché Ridotto Perché c'è solo il ritornello No vabbè Anche le strofe dai Sì Però non sono quanto il ritornello Sì Eh Che cazzo vuol dire È tipo Che cazzo vuol dire È tipo come È come le canzoni di 50 Cent Le canzoni di 50 Cent Il ritornello Spacca Ma le canzoni di 50 Cent Sono tutte 10 Sono Sì Perché c'è il ritornello Che è troppo bello Minchia Però se tu analizzi le strofe Fanno veramente C'è son brutti Ma che cazzo te ne frega Ma sì No Ma questo non è che fa tanto cagare No 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 Per carità Però il ritornello Spacca Boh comunque Allora in media fa 8 e mezzo Dai Come quella lì prima Quanto è Quella lì prima What's your name Sì è tipo What's your name Dai La prossima Passiamo con Hot Windblower Questa è la traccia Questa è la traccia Questa è il feat Con Lil Wayne E qua Lil Wayne Ha fatto Una roba da prime Ha fatto una strofa Da prime Perché lui in questo momento Non è al suo prime Anche perché ormai Ha appeso i suoi abiti Sì Non li ha più presi Ma ci sta Da anni che cantano Ma esa strofa Per è tornato Alla gloria Perché ha fatto un extra beat Su un beat Che non si fanno gli extra beat Su beat Che non si ne fa nemmeno Su questo beat Non si può fare Su un suo beat Su deve cantare E basta Però ci sono loro due Che ha detto Ma sai che c'è Dele piamo E iniziamo con Hot Windblower Vento caldo soffia Sì Riferimento alla Ginevra Svizzera Ah la Francia Eh qua Qua si viaggia Con lo yacht Ah ecco Questo è sempre Ah del 78 Ah ma Di che funghi Sei fatto Dice la voce Dice la voce E adesso D'impressione Dio Voto nove Io lo dico già adesso Nove Allora Però che tende al die Cioè Allora Nove e mezzo Allora Allora Se fosse stata In un album Di Lil Wayne Sarebbe stata Della dieci Se fosse stata Però io direi Anche dieci Se fosse Sì ci sta Dieci Però sarebbe stato Un dieci proprio pieno Anche di più di dieci Perché dieci Alla dieci è la perfezione Dieci è proprio Io direi anche dieci Però poi è il problema Con questa canzone Siccome è una canzone Di Tyler In un album di Tyler Come cazzo è possibile Che Lil Wayne Ha fatto Il triplo più bene Rispetto a Tyler Sì Lil Wayne ha sulclassato Tyler Troppo Cioè Tyler Allora il testo ci sta Perché vabbè Parla dei suoi viaggi Che ha fatto In Europa Tutte le robe Però Lil Wayne Anche Presupponiamo che Lil Wayne Perché io adesso Il testo non me lo ricordo Lil Wayne non ha letto un cazzo Anche se Non ha letto un cazzo L'ha sulclassato Cioè La Sì Flow Tutto Tutto Flow La voce Sul beat Esatto Poi L'extrapit Con questo Sample Allora Sì come dice Toby Se fosse stata Una canzone di Lil Wayne Sarebbe da 10 Io direi anche 10 Io direi un 9,5 Noi un 9,5 Solo per questo motivo Perché Lil Wayne ha sulclassato Tyler Però Dobbiamo anche valutare La canzone in sé Quindi Vabbè Diamo un 9,5 Dai Siamo nella metà Comunque Questa canzone spacca Uno dei migliori Sì Passiamo alla prossima Che Massa Allora Cosa pensavamo di massa? Cosa puoi pensare? Una parola italiana No? La massa Tipo in fisico La massa Oppure la massa Nel senso Tante persone Sì la massa Che comunque Tra l'altro qua Cita anche l'Italia Però in realtà Massa Non vuole Intendere Massa Genius Cosa ci dice Che massa Deriva da Master Che era il padrone Degli schiavi Quando ce l'ha scrivito In America Perché evidentemente Gli afroamericani Non dicevano Master Ma dicevano tipo Massa Sì perché erano Comunque La lingua Non so Del Senegal Nigeria Da dove venivano Dell'Africa E quindi Si è trasformato In massa Da master A massa E sta roba Cioè Non Esatto Non si era capita Non si era capita Evo Andiamo con Quale canzone Passa Ma Prima Flexa Che avete Nel Sanchez Però Ora C'è tanto da dire Anche perché è abbastanza lungo Allora Nell'intro Louis Flexa Che ha 20 anni Già a Los Angeles E vive la sua vita E quant'altro Poi al diverso La strofa E dice Eh ha 23 anni E quando la pubertà Ha avuto il meglio di me A 23 anni L'ha colpita E infatti Per questa cosa qua Il suo primo Il primo grande album Che c'è di bomba Ha detto C'è di bomba Suonava così Perché appunto Suonava E Shifty Nel senso che Molti hanno criticato Cherry Bomb Perché dicevano Che era molto saturato Con l'album Cioè Le basi Si contrastavano Con le voci Le tram Era tutto incasinato E lui diciamo Che giustifica Questo fatto Perché era ancora Un ragazzo Perché era un ragazzo E non ne sapeva tanto E comunque E poi tra l'altro Dopo dice che Il suo gusto Della musica È cambiato Però La prima impressione È quello che conta di più Quindi la gente Ha continuato a vedere Sempre come una persona Che magari non sa cantare Non sa fare Sì esatto E quindi È buono Comunque Fa un assunto Questo è un assunto Della sua discogliettiva Perché poi fa riferimento A Flower Boy Qua dice Turn into a Butterfly Che si trasforma In una farfalla Flower Boy Che è l'album Che l'ha fatto esplodere Praticamente Sì Dove ha fatto Il coming out Quell'album Sì tra l'altro Con Jonkers Era in Flower Boy E Jonkers era Non era in Flower Boy Ah beh comunque Jonkers era Il singolo che ha fatto Diciamo L'ha fatto esplodere Jonkers l'ha fatto esplodere Perché Prendete da Jonkers Si è fatto conoscere Da Kanye West Kanye West l'ha ripostato Su Twitter Ed ha esploso Anche per il video Che ha fatto Cioè che C'è uno scarafaggio Che ti va dalla mano E poi se lo mangia E vomita Lo scarafaggio Cioè Esatto Roba del genere E quindi È comunque un flex Questa frase Perché lì dice Che quando ha fatto Jonkers Sono ammabili Tipo un shelter Quindi una casetta Abbastanza brutta Sì sì Però quando che ha fatto Esploso con Jonkers Ha tirato fuori Da quella casetta Ha comprato una vera casa E quindi Boh Quindi dice che lui Non è mai stato ricco Ma se ne è guadagnato E così L'ultimo shout out È Path Halls Path Halls Di Quando dice Still Path Halls Che è una canzone D'Arabble Flower Boy Che è Fit con Jaden Smith Che si chiamava Path Halls E poi andiamo avanti Andiamo È una cosa Che non avevano detto È throw Ha cambiato Death Flow In una prima strofa Non ce ne siamo resi conti Ma ha cambiato Death Flow In una strofa Non è la sua Che c'è da dare È bravo Ha lincato tutto La sua vita Con una canzone Sì Che beat però Anche il beat Fa tanto Perché Non ce ne rendiamo conto Ma il beat Amalgama tutto bene Ha fatto uno storytelling Cioè Veramente Cioè La prima strofa è lunga Ma la seconda La seconda La seconda non finisce più No però è piacevole Non è Cioè lunga però Non è pesante È lunga però Comunque Cioè sono Vabbè Vabbè Senza ritornello Vabbè Che sta Giusto Hai impiazzato i ritornelli Allungando le strofe Esatto È rap È rap Alla fine È l'opposto di Igor È l'opposto di Igor Esattamente l'opposto Voti 8 Gli do 8 Perché 8 perché Allora Non ha quella cosa Che ti fa dare 9 Non ha quel Allora Cambia tanti flow Sì Perché anche la seconda strofa Fa un flow diverso Dalla prima Nella prima ne cambia 3 Nell'ultima Forse ne cambia 2 Se non ricordo E sono comunque diversi Rispetto a quella Dalla prima Sono diversi Quindi è cosa 5 È rap Però Forse ci stava Quel ritornello No che poi qua c'è il ritornello Sì sì c'è il ritornello Però è rap Non te ne rendi conto Cioè adesso noi l'abbiamo visto Perché c'è scritto qua Su Genius Però Non te ne accorgi Non te ne accorgi Non te ne accorgi E comunque gli do 8 Perché Gli manca quella cosa in più Esatto Sì Gli do anch'io un 8 Però È una bella canzone però È una bella canzone Ascoltabile Non è quella cosa tipo No Lil Wayne Esatto Quella di prima Cioè questa qua è orecchiabile L'ascoltare anche Tante altre volte Ecco Passiamo alla prossima Run it up 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 We off the dope We off it We off the boat E' una bella trostanza questa stona E' proprio un vizio, la voce, anche le voci, le doppie E' una bella trostanza Ma io a questa, io a questa gli do, anche questa gli do 8 Sai cosa? Io lo voglio dare anche 9 Però in questa canzone sai che ci vedrai molto bene? Chi? J. Cole J. Cole? Ah si è vero, è vero Si, sta canzone è incompleta forse Esatto, perché la intro è lunghissima, l'outro è lunghissima L'outro sono 50 secondi di out Sì, sì, sì Qua ci serve un'altra persona che parla come lui Comunque l'atmosfera, questa è la migliore atmosfera che c'è stata finora Di tutte le canzoni, proprio l'atmosfera, le parole come stanno bene nel beat e tutto Io gli do 8, gli do 8 perché Ci doveva essere o un feat o doveva fare un'altra strofa Doveva fare, forse non doveva ripetere così tanto il ritornello Esatto Però è anche una scelta artistica secondo me il fatto di ripeterlo tante volte Perché l'atmosfera ti dà questo loop che comunque per me è da 8 Non è più di 8 Le ho ridotto anche 9 però Sono incomplete secondo me È vero, sta di incompleto Esatto Pensate, incompleto è bellissimo Immaginatevi completa Esatto, io non vedo che esca la Deluxe Edition Se uscirò quando è la Deluxe Se uscirò Eh ma Te la non è la Deluxe Eh ma sta can... Ha un corso che deve essere con la deluxe Eh Questa che... Farà dei remix però Secondo me sì, ci sta anche farli perché sono molto carine Vabbè Direi di passare alla prossima canzone Qua siamo manifesto Eh manifesto Ok Allora manifesto è una parola italiana manifesto Questa è palesemente italiana È italiana e manifesto fa riferimento... Può essere il manifesto del futurismo, può essere Tutto Qualsiasi manifesto Perché in questa canzone lui è domogenesis Che domogenesis, raga, faceva parte dell'Old Future 2012, 2011 Anche prima adesso non mi ricordo bene l'anno Ma veramente È un feat che è tornato dopo tanti anni Inaspettato anche questo feat Che loro cantavano insieme quando erano proprio piccoli E secondo me questa canzone Manifesto comunque Parla forse della situazione che c'è adesso Forse anche riguardo Black Lives Matter Comunque tutti i casi che ci sono stati È il loro punto di vista Che comunque sarà alternativo Sicuramente Non sarà Sarà controcorrente Sicuro Non sarà mai in stream Non sarà mai in stream Assolutamente La intro già dice tutto Perché cosa dice? Le ragazzine bianche Ma loro che cazzo ne sanno Ma che cazzo vogliono? Eh no Eh no perché devi dire così Ne eri qua E lui proprio lui dice Ma che loro che ne sanno? E infatti Già iniziamo bene Io già la mostro la canzone Già da questa intro Io già la mostro la canzone L'abbiamo finito la canzone Cioè No vabbè No vabbè Sto inventando Però Sto addestrando la religione catone Perché dice Eh voi afroamericani Fate tutti i gospel e le cose Ma la religione Ve l'ha indetta al padrone Non è la nostra religione questa È già qua Minchia Benissimo bene Il beat sale di pitch Cioè il beat Sa cosa che sale di pitch Perché dà più intensità E poi d'omogenee si minchia È tornato più forte di clima Eh questo è un manifesto veramente Ha fatto benissimo A chiamarlo manifesto Ce l'è Ok 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 ho capito Qua praticamente si sta scusando Allora prima dice che I was cancelled before cancelled Was with twitter fingers Cioè che twitter sta cancellando di tutto Cioè praticamente sta facendo una dittatura twitter Da bannare trump A cancellare ogni piccolo Ogni piccola cosa Che non va nei canoni Che ci sono adesso Twitter praticamente sta bannando tutti E lui dice Lui è stato cancellato prima Che mi fessero Lui è stato cancellato Lui già lo bannavano prima Che sta cosa era una cosa di moda No? E poi dopo si è scusato con Selena Gomez Perché con Selena Gomez Aveva fatto dei tweet Madonna Che adesso Se mai ve li mostriamo Ve li facciamo vedere che tweet Delle robe assurde E si sta scusando E poi Back when I was trying to fuck Bieber Mi dica Quando era omosessuale Perché adesso ha switchato Perché I was trying to fuck Bieber Volevo scoparmi Justin Bieber Adesso Cioè È un meme Non sa neanche lui Non sa neanche lui Che cazzo vuole E boh Andiamo avanti No no Questa qua è Va anche contro Il Politica di Correct Esatto Va contro Il Politica di Correct Questa è tutta parlata Tutto Tutto questo Pride che c'è Questo sostenimento falso Ipocrita Questa è tutta ipocrisia Lui dice Cioè È ipocrisia questa E lui Fa anche un appello ai neri Dice Io non ho i dread Non ho i dreadlocks Come te Però ho i denti d'oro Però Baram e Nigel è cute Anche io sono nero come te Anche se abbiamo dei tratti diversi Facciamo Dei piani insieme Dobbiamo essere uniti Al posto di Dividerci Come stanno facendo adesso In questi modi Lui dice Uniamoci Facciamo dei piani insieme Facciamo delle cose insieme E poi questa traccia spacca Votimi Allora È una traccia da ascoltare Non è È uno storytelling Io gli do otto Pura questa Allora Io qua mi tengo abbastanza basso Perché Gli storytelling Ho avuto molte Però sono molto più Orecchiabili di queste Sì però A parte che questa Non c'entra un cazzo Con Questo non c'entra assolutamente Con l'album È proprio uno sfogo Che ha avuto Io gli do otto Perché mi interessa Quello che Cioè Io mi ritrovo in quello Che ha detto Invece Invece qua mi tengo molto basso Io gli do un se Perché non è per niente Ascoltato Un seida È addirittura Questa è quella Che mi è piaciuta No Io gli do otto Io gli do se Perché non è per niente Orecchiabile Domogenesis è tornato Più forte di prima Lui non lo conosce Non l'ha mai sentito Però Domogenesis Non so È come dire Non so che paragone farti Però Cioè Non è Non è orecchiabile Cioè io l'ho ascoltato ora E mi basta Basta Cioè Sì sì Eh boh Sei Magari ha Hot Windblows Che anche lì è tutto Rappato Vabbè Hot Windblows È una delle È boh Però vabbè Cioè nel senso Sei Sei Però sei e mezzo E ora Passiamo Alla traccia Numero dieci Sweet I thought You wanted to death Traccia numero dieci Ma non solo perché è in ordine Ma anche perché dura dieci minuti Dura nove minuti e quarantotto Sono due canzoni Messe in una E adesso andiamo a sentire Ho paura Questo fra l'altro era nella intro Sì Diciamo che questa canzone Fa riferimento alla tipa Perché Sweetest è dolce È dolce nel senso La paragona Forse anche un dolce Sì Sugar Allo zucchero Paragona Sì Sì Il test è semplice È una canzone così Che la scrivi mentre In bicicletta Così Sì Dice che è la più dolce La più dolce Che abbia mai visto Nella sua vita Sì Diciamo che Qua Tyler Brent Fyles Chi cazzo è poi Brent Fyles Brent Fyles Chi è È un artista R&B Infatti questa canzone Ci mi ricorda molto R&B Non so perché Blues and Jazz anche Sì È molto No ma aspetta che quando switcha Ci saranno altri generi Cioè Io Io so che dove posso aspettarmi Tutto Ma se mi mette un pezzo Con Skrillex Che fa dump step Così a caso No vabbè Non a quei livelli Però Io prendo Me ne vado No vabbè Fa riferimenti Che il suo cuore Triplica Triplica i suoi battiti Solita Canzone d'avorto Solita canzone Canzone d'avorto Sempre la solita cosa Andiamo avanti Schipriamo Ora inizia la transizione Con I thought you wanted to dance Già cambio Questa è canzone d'ascensore Che è anche un po' salsa È anche un po' salsa Di nuovo A caso Quarto dei bassi Io ho detto 08 È diventato reggae Vedi è tutto Anche dance È un po' sperimentato Questa cosa Questa cosa Che vuoi fare Tipo Brasile Non fai brasiliano Sì Brasile Latino Sì La canzone Quando vai in mare Col cocktail Col cocco Che ti bevi Col cocco Sì Oltremonti No Questa è un altremonti Però Ma nemmeno Che stai in spiaggia A fare mulla Con il tuo drink in mare E qua canta anche Fa una Who Who's Who's Che Chi cazzo è Mericenti Sì Diciamo che qua Parla che lui vuole Vede questa ragazza Che fa riferimento Questa ragazza che gli piace Vuole ballare Però Lei non vuole In questo caso Perché lui dice Io pensavo tu volessi ballare con me Sì Perché sei da sola Rimanerà da solo Come Un babbo E non ballano insieme È una delusione Ha avuto Diciamo Esatto Si può Così tradurre In una delusione Comunque questa canzone Il segno di quanto Tyler di Creto Può cambiare Sì Lui Apparentemente ha fatto Quanti generi 200 generi Penso tutti Ha fatto tutti i generi Gli manca l'hardcore Che cazzo gli manca Sì Gli mancano quelli di tipo Elettronico Sì Elettronico Ma ha fatto reggae Salsa Cioè Sta canzone Poi vabbè Giù la dicevi Minuti Grazie a sto cazzo Minchia Come minimo A caso Poi c'è Fit Tipo L'ultima cosa che dice Corso non ha avuto Da sa brocky Perché mi ha litigato Tipo così A caso No Lui sta rappando Sul beat reggae Che ha switchato Pure il beat Non è più Non è più C'è i synth Qua Secondo me cosa è successo Praticamente era un po' Andato con la testa E dice Trava Per sbaglio Il tasto rec Con questo beat Di Sì Lui faceva Versi a caso Lui faceva Versi a caso Poi Ah ma mia Minchia Stai registrando Aspetta che Inizia a dire qualcosa E questa è una vera canzone E suppondo Che dura Tipo 20 secondi Allora Allora Questa è Bohemian Rhapsody Questa è Questa è Bohemian Rhapsody 2.0 Sì So che Bohemian Rhapsody Si chiamava Bohemian Rhapsody Qua si chiamava in due nomi Però C'ha gli stessi switch Allora Sono due nomi Ma sono cinque canzoni dentro Sì Io Io Cosa dire di questa epopea Io il voto Eh Supera tutti Ma io Una canzone del genere Io gli do dieci Dieci Io gli do dieci Ma Perché Va oltre Va oltre Tu fai una canzone così Fai una canzone così E questa è perfetta Allora Se la vuoi fare Non fala di dieci minuti Eh ma non ci stanno tutte Dentro Cioè Se l'avessi fatta di tre minuti Non ci sta Sarebbe So che la transizione Troppo Che l'avevi fatta Avrei tolto sweet E hai lasciato quella La parte finale La parte finale Perché sweet In realtà È solo un preambolo Di come Sì Quello è vero Però Se l'avessi fatto sweet Non ci sarebbe stato La parte dell'ambito Esatto Io gli do dieci È perfetta sta canzone Ok È ambigua Perché Non capisci un cazzo Però Se non fosse Per la lunghezza Che sono dieci minuti Quindi Cioè Noi È difficile che questa canzone Vero salvata In alcune playlist Io l'ho salvata Va bene Allora Perché Bella è bella Per carità Ci vede tutto il suo talento Io gli do Otto Otto perché è troppo lunga Anzi guarda Cioè Sono Otto perché è troppo lunga Cioè io questa qua Non la riscolterei mai più Troppo lunga Cioè Dai Non puoi metterti Cioè Dieci minuti È l'album dei migos Sì è vero Nell'album di 645 Ma neanche Che lui quello fa le canzoni Di un secondo E appunto Per dire Cioè Comunque dieci Otto Comunque è una bella canzone Cioè Comunque è nove di media Che comunque Cioè nove hanno avuto Dei canzoni Corso e Hot Windblows Quella è bella Sono nove e mezzo Pensa Allora Passiamo Alla prossima Saltiamo Mamma Talk Che è uno skit Parla alla mamma Che cazzo ce ne fare Noi dobbiamo La recensione Di lui che canta Esatto Passiamo a Rise Rise Risorgere Risorgere L'impero romano Tra l'altro notare il punto esclamativo Quindi proprio urla Lo vuole a bar Sì Sì Questo è James Brown Questo è James Brown Questo è James Brown Questo è funk Minchia lui è passato dal reggae Io ti ho detto Secondo me adesso L'ultima canzone Dura otto minuti di nuovo Ma secondo me dentro C'è Skrillex A Fitning Così a caso Poi alla fine c'è Tiesto Per fare un po' di tecno Questo è funk Esatto Che è funk Che è funk Che è funk Però ci sarà fatto anche Per esempio Passa dal regno A cantare Cioè qua Non devi stimare Che è il cover Perché anche dal cliccio Della voce Dice che non è lui È un altro Ecco questo è Tyler Ha dissato Ha dissato Kanye e James Brown Minchia Se ne ha dissati You ain't the only nigga That be in Paris Ha detto Che è un po' di tecno Minchia Ha dissato Kanye Poverini Kanye è monelardo Ma non è che l'ha dissato Sì Minchia se l'ha dissato Secondo me sì You should be embarrassed Secondo me You ain't only the nigga that be in Paris Di essere imbarazzato Perché magari Kanye Lui ha chiesto a Kanye E Kanye ha detto io Perché ha detto che magari Non gli andava bene Perché fa troppo schifo Ma sai che c'è Tu non sei stato l'unico L'unica persona che andava a Parigi E' l'unico negro Non persona E lui c'è andato Con chi c'è andato Perché non ce ne andava Perché è un figlio di puttana Però questa è un'altra storia Dai andiamo Let's go Sì Ovviamente poi gli ha detto Che magari Non gli perce più Come fare le sue canzoni Ma non sa che c'è Non ti faccia più il featuring E quindi gli ha detto Quella roba di anche Perché dopo dice Che ha talento È bravo E boh Sì sì Eh però Il destino è già stato Sì ma il destino Più che altro È un giusto per No ma ci sta Crea competizione Perché poi Kanye West Lo può dissare a sua volta Mai lo farà Sì infatti No perché Kanye West È veramente divino Che lui disse Gli arrivano E si sciolgono Sto ancora aspettando L'album con Salvi e Sgabbino Di Senso Rapper Però va bene Dai Va bene Quello Non ce l'ha mai Adesso mi sa che Ce l'ha un po' Con Kanye West No no Però anche Chance La Chicago Non è Chance E Chicago Non può essere anche Ripeto Chance the Rapper Sì che magari Kanye ha preferito Chance the Rapper Che lui Guarda che qua Dissato Kanye Sì qua ce l'ha con lui Un po' Ce l'ha con lui Ce l'ha con Kanye Perché Kanye è di Chicago Chance the Rapper è di Chicago Chance la è di Chicago Tuka Chance Nel senso che Ha preso Chance Ha preso Chance the Rapper Da Chicago Da Chicago Eh minchia Aspetta È una mia interpretazione For your nothingness Negan on And screaming out Fuck him Fuck Kim Kim Fuck Kim Kardashian Fuck him Fuck Oh Io Io non lo so È un'interpretazione Però Il doppio senso c'è Fuck Kim Fan culla Kim Fuck him Fuck them Nel senso come dire Fan culla tutta la sua famiglia Di E i suoi dodici figli Secondo C'è qualcosa C'è qualcosa che puzza Sì Qua facciamola finire Allora che dire È stata una traccia Molto Molto intensa Ecco Io Io pure a questo Gli do nove Sì nove Nove ci sono Nove perché È funk Però ritornello Non è funk Poi Rappa Il beat switch C'è la tipa Che non sappiamo Chi cazzo è Che Comunque fa il suo Di Sacani e West Dopo i sensi Infiniti Infiniti Nove Nove va bene Nove Dieci no perché Non era dieci Però nove Nove lo merita Sì sì Veramente figo Allora la prossima è Blast Che è lo skit Lo saltiamo Adesso Arriva quella canzone Che se tu leggi I featuring Dici Cosa è successo L'illusivert E Pharrell Williams Ma l'illusivert Anche ci sta Ma perché Pharrell Williams Adesso lo ascoltiamo Guarda C'è il cammino Sì sì Vai metti Juggernaut Juggernaut Wow Minchia E qua L'illusivert Ha dato meglio di L'illusivert Come Come Lilluane Sì qua I livelli di Lilluane Qua Il flow Qua spaccato Chi se ne frega Cosa ha detto Non me ne frega un cazzo Non ha detto niente Magari non ha detto un cazzo Non ha detto Allora La prima porta Non ha detto Soliti flex E quant'altro Va bene Però la seconda Già un pochino Si è tramvizzato Ma neanche più di tanto Però Wow Tyler Boh Ha cambiato il flow Sugar Sugar È passato Una roba Però Normale Poi minchia L'illusivert Il livello Massimo Boom E poi adesso C'è il ritornello Sentiamo Stile Vecchio Tyler In basso C'è il ritornello E poi C'è lui Faremo Ora Vediamo Come è che Adesso Un saporolaccio Eh Com'è che usa parolaccio Fare il Williams Perché Usa parolaccio Eh perché Lui non l'ha mai usato Ah no Eh non ci ho mai fatto caso io E beh ma sta rappando È presente quando Snoop Dogg Ha fatto quella transizione Da rap a reg E si è fatto cambiare Snoop Lion Si Fare il Williams L'ha convinto a farlo L'ha fatto cambiare tutto Infatti ora Delle canzioni di Snoop Dogg Come sono tutte Quasi gospel Praticamente No vabbè Ma adesso è tornato Snoop Dogg Ha tornato il suo stile Snoop Lion Non faceva reggae Faceva Si ho capito Adesso è tornato Snoop Dogg Però se vuoi guardare Le sue ultime canzoni Le sue ultime Lui che ha fatto Qua c'è praticamente Si tu dici che Faremo Williams È tipo Il canio della situazione Lo ha calmato Però Il canio della situazione Però Non ha Si esatto Però Non è riconosciuto Quanto canio Però Ti dico Poteva Mmm Anche perché Fare le cani Hanno quasi Paticamente La stessa storia Praticamente Sono stati scoperti Da dei grandi ai tempi E boh Si 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 Boh Voti Io nove Non gli do dieci Perché Fare Williams Nove e mezzo Eh anche qua Diamo nove e mezzo Come Hot Wind Blows No come cazzo si chiamava Quella là Si è Hot Wind Blows Come Hot Wind Blows Perché Farell Farell Sì ma non è la sua cosa Questo Però L'ilusi L'ilusi L'ha portata a nove L'ha portata Poi anche Ritonello Boh Ci sa Con la bocina del cazzo Però Perché Farell Farell lo ricordi Per Happy Si Non è la sua roba Però Ci sta Perché ha rappato Ci sta Il flow Io ho sempre pensato Che farell Praticamente Era solamente strumentale Ha fatto lui La strumentale Invece No Ha fatto Digidrama Lui ha cantato Cioè Che però Sembra c'è di Sgambino La voce è uguale Cioè di Sgambino Si È veramente simile Ecco Nove e mezzo Nove e mezzo Qua avrei fatto Che DJ Dramma E Farell Dovano lavorare insieme Per fare la produzione Chiamavi Cioè di Sgambino Per fare il pezzo Di Farell Dieci Però Nove e mezzo Nove e mezzo Non fa schife Ok E adesso arriva La seconda Epopea Questa è un'opera Dantesca Where should I Si Questa è uno storytelling Questa è Shakespeare Questa è da analizzare Tra di Questa Qua ne dice di cosa Ascoltiamo Ok Prima strofa Minchia ce n'è da dire qua Questa strofa praticamente Ritorna al senso Dell'album Però io Inizierei dalla fine Ad analizzare Perché questa frase Allora Qua dice And they say Bros over hoes I'm like Nel senso Gli amici Sopra Le hoes Le puttane Le ragazze Vabbè Frase presa In the office Tra l'altro Avurader Hold your hand Can have a cool handshake Cioè io preferisco Dare la mano A sta ragazza Che fare un handshake Con un amico Quindi lui preferisce Questa ragazza E i suoi amici E poi Si analizza il resto Che si collega A tutto Per qua dice Che il problema È che lui È mio amico Però se devo essere sincero Spero proprio Che lo lasci Sì sì Il suo amico Ma lui spera Esatto Spera proprio in questo Che però comunque La ragazza Lo potrebbe lasciare Nel senso La ragazza Sta facendo un doppio gioco Alla fine Cioè scusa Se esce con Tyler La ragazza Evidentemente Vuole il suo amico Però sfrutta Tyler Per magari Perché ha soldi Esatto Lo sta sfruttando Perché se no Tu lo lasci Quello Se vuoi stare con Tyler No Cioè alla fine Tyler Non è che lo devi Fa diventare pazzo Esatto Eppure Eppure Andiamo avanti Allora Qua continua Sì Fanno FaceTime Pure Cioè La ragazza Lo sta sfruttando Per bene Perché La ragazza Secondo me Non ama Tyler Lo sta Come dice te Lo sta solo sfruttando Per la fame I soldi Perché se la amasse Veramente Avrebbe lasciato Perché qua Dice che Tipo Non vede questo amico Da un paio di mesi Quindi magari Ha lasciato anche La ragazza Un po' da sola Però aspetta Chi è anche Che non vede Da un paio di mesi Non lo dice Asaprochi Sto coglione Asaprochi Non lo vede Da un paio di mesi E se il caso Rihanna E se la ragazza È Rihanna No vabbè Però Zan zan Scusa Scusa Guarda che Però Rihanna Contale Già tanto Rihanna Con Asaprochi Che cazzo è Rihanna Contale Però Cioè Tutto torna Tutto torna E minchia Magari ha preso Questa è la sofa 2 Magari Magari Quella ha preso Ha preso come esempio L'amicizia che hanno Con Asaprochi Ma magari diverso Perché magari Non vuole farsi scoprire Così così Cos'è Cos'è Andiamo avanti Quindi Ok Quindi Qua dice di essere bisessuale Praticamente Quindi praticamente È una fase di transizione È una fase di transizione Nel senso Lui sta passando Da gay A etero Però comunque Ancora in quella fase Perché qua dice Io Però forse parla No non parla al passato Potrei Dice potrei Io potrei Farmi un casino Di puttane Uomini O donne Quindi è ancora In una fase di transizione Sì perché Quella storia Che ha avuto Con quel ragazzo lì Magari l'ha Tammatizzata Sì sì Che ha trovato Beh in tre anni Ma ha cambiato Quattro volte Infatti In tre anni È tutto E quindi Magari Non è ancora deciso Come vuole essere lui Quindi Qua praticamente Dice che Ha chiamato Questo suo amico Dice che Cioè in realtà Ha chiamato In realtà Non dice Chi ha chiamato Dice che ha chiamato Qualcuno Forse leo Forse il suo amico Dice che Non possono Continuare così Però Eh no Però non vuole Chiuderela In molti termini Perché gli piace Come amica Siccome Siccome Non riesce Ad averla Perché dovrebbe Farmi del male A A questo amico Sì Dice Piuttosto Metto fine a tutto Ti vorrò sempre Più bene Che forse è meglio Per lui Perché comunque Lei lo sta prendendo Per il culo Palese Sì Perché Lei lo mette Nella friendzone Sì Sì Lo sta friendzonando Praticamente Lui invece Lo sta friendzonando Ma non lo sta facendo Sì Poi lui capisce Che lo sta facendo Quindi lo friendzona Lui lei Sì Ed è un genio Perché così bisogna Perché l'ha capito L'ha capito Sì Però rimane sempre Con questo sentimento Che la mera Per sempre Anche se Non è ricambiato Sì Sì Boh Voti Anche qua Finisce questa epopea Minchia Il quarto verso È durato Tutta la canzone Sì Dura un casino Sto fa un tura troppo Cioè sì Sto fa un verso Sto fa Mannaggia genius Che mette verso Allora Contestualizziamo Contestualizziamo Che è uno storytelling È una canzone Da Allora È una storia Non è una canzone Io se devo riassumere L'album Scegliere questa canzone Sì sì Questa canzone potrebbe essere L'album Solo sta canzone Sì Praticamente Però che Allora Il voto Lo diamo in base A tutte le altre canzoni O in base alla canzone stessa Perché io in base Alla canzone stessa Io gli darei un otto Però in confronto A tutte le canzoni Scenderei Gli darei sette Io invece Alzerei Perché completa Competa l'album Questa canzone Competa l'album Però Io adesso Non ricordo Come che canzone Safari Però con questa canzone Sembra che ha chiuso Il circolo Che ha creato Questa storia Non è che ha chiuso L'ha riassunto Ne ha parlato Ne ha parlato Ha parlato di tutto Alla fine Sì Ha parlato di come Ha conosciuto questa ragazza Di tutto Ha riassunto l'album In questa canzone Infatti dura otto minuti Delle sue emozioni Per la ragazza Delle sue emozioni Verso l'amico Non sa cosa fare Non sa perché deve farlo Alla fine decide Di lasciare tutto Io gli darei 3,7,8 Non gli darei di più però Io ho 8 Eh Il voto è 7,5 Io ho dato 7 7,5 Allora il voto Perché È una Allora Forse se durava di meno Cioè 8 minuti Ci sta E non l'ha fatto mai nessuno L'ha fatto solo lui Hai dato 10 A quella di 10 Sì ma quella di 10 Non è tutto uguale così Sono 20 canzoni Questa è l'album Questo è l'album però È un discosso Non è una canzone Un discosso Invece quella da 10 minuti Sono delle canzoni Canzoni che sbucciano Continuamente Però 8 Vabbè 7,5 Beh comunque 7,5 Passiamo all'ultima Safari Stramamente È l'ultima Io l'avrei chiuso Con questa canzone qua Sì però è vero Anch'io Io il Safari Non me la ricordo Nemmeno E tra l'altro Perché c'è questa Destination Destination Per tutto Il tempo Saffo Questo invece La chiude il suo viaggio Sì questo Tutto quello che ha fatto lui Praticamente Wyshire La chiude la storia D'amore Che ha avuto Con questa ragazza Invece Safari Sta chiudendo il viaggio Che ha fatto in Europa Per fare questo Ma neanche in Europa Perché parla di Giappone Parla di tutto Sì parla di tutto il mondo Sì sì In effetti Parla magari di Questo viaggio spirituale Che ha fatto Per riprendersi da quella storia Per fare questo album Qua parti Alpi Parla di Giappone Cuba Sì sì tutto il mondo Ciabatta in coma Sì sì Un grande figlio Qua Siccome ha già citato Molte volte Chicago Kanye e quant'altro Che ha scelto In Rise In Rise soprattutto Sì che ha scelto James the Rapper Invece che lui Qua Mia interpretazione ovviamente È Ha Took the Grammy home Couldn't lose again E fa questi Che sono praticamente La clips di Di James the Rapper E poi Altra cosa È Ta Mama name in Tyler In his brother Call him T Come si chiama il fratello Taylor Ah cazzo Taylor Urbani È lì vicino Però Vabbè Season 3 Comunque il 3 Più che altro Vabbè trilogia sua Però il 3 È molto più il logo Di James the Rapper Sì sì È vero James the Rapper Nel cappello James the Rapper Ci ha vissuto con quel 3 Sì sì Quindi Uh 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 Boh In pratica Vabbè Questo Voto di questo Non lo so È un vivo È È È Invotabile No Più che altro Perché questo È proprio a fine Mi l'ho fatta giusto Per La 3 7 E l'8 Pure questo Secondo me 7 Perché l'ho fatta già giusto Per finire l'album E basta Sì sì Diciamo che Come hai detto Prima questa racchiude I viaggi Invece Wyshire Racchiude la storia Che ha avuto Esatto Sì Allora Voto complessivo Voto complessivo Allora Non batte Igor Secondo me Igor è A me non è piaciuto Per niente A te non è piaciuto Io ti dico Igor è da 10 Ma perché è da 10 Perché Igor è una cosa nuova Cioè È un genere nuovo Una roba nuova Questo è rap Ci sta Perché ha riproposto Una cosa vecchia Ci sono molte canzoni Che possono toccare il 10 Esatto Quindi è voto medio 8 Voto medio 8 Alla fine È vero Anche forse un po' di più di 8 Viaggia tra l'8 e il 9 Un 8 e mezzo Volendo anche Sì un 8 e mezzo Non è da 10 Perché ci sono delle tracce Che sono incomplete Se fossero state complete Può darsi che prendeva pure 9 10 Lo prendeva Perché ci sono delle tracce incomplete Però Cioè di fatto Lui ha riproposto una cosa vecchia Nel 2021 Rap Interamente rap Ha fatto rappare Dei artisti che fanno trap Sì Ha fatto rappare Ha fatto rappare Luzi verte Ha fatto Fare R&B Comunque quest'album Secondo me È diviso in tre parti La prima parte Dove inizia la storia La seconda Dove vuole spezzare Un po' di cose E dice Fa un po' di flex Esatto E poi la terza Che è da Will Shari in giù Che è per concludere La storia di l'amore E la storia di suoi viaggi Per fare quest'album qua Sì 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 Comunque nel complesso Ha fatto un bellissimo album Nel senso Non è ripetitivo Assolutamente Come un culture 3 Però Cioè per dire Qua se non ci fosse stato DJ Drama Non so quanto Poteva Sì DJ Drama ha fatto tanto DJ Drama ha fatto tantissimo Insomma ha fatto anche Di più del 50% Sì Che non è 50-50 È un 60-40 Perché Le produzioni Anche perché Non in tutte le canzoni Tyler ha dato il suo massimo Esatto Basta vedere quella con il Wayne Quella con l'Illusi Non ha dato il suo massimo Ha lasciato fare i fit Esatto Ha lasciato fare Ci sono anche Ha usati i fit Gli ha usati come i fit Nel senso che lui Se lì la sotto un pochettino Ha detto Oh minchia Vi pago per fare questa canzone E fatela bene Sì 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 Quindi ci sta Esatto Ci sta E boh E diciamo che con questa Abbiamo chiuso Questo è Call me if you get lost Di Italia The Creator Adios E qui ci sta